Cari ragazzi, questa è la finale, non ero mai arrivato all'ultima giornata e devo dire che è un casino Vi faccio rivedere un attimo la situazione, perché sulla mappa si capisce bene Tutti gli zombie si stanno avvicinando Questa è la parte in cui ce ne sono meno Questo mi dava un monito in port... Questo mi spaventa questa zona qui Questo mi dava un monito importante, no? Anche perché potrebbero arrivare altri, forse Che sono dei... Ok ragazzoli Benvenuti allo scontro finale Chi vincerà non si sa Ok, lì stanno attaccando Qui stanno attaccando, stanno resistendo Madonna, madonna Ma cosa? Aspetta, aspetta Porca troia Ma cosa... Ma come faccio a difendere? Ma come... Ma come cazzo? Cioè, ma come vi viene in mente? Come vi viene in mente che io vi possa difendere da questa roba? E questa è facile È la modalità facile Io che stavo costruendo una città perché fosse bellina E questa è la modalità facile Allora, vediamo un attimino Arrivano tutte da questa parte Queste difese qui Verranno abbattute tutte Però ce la potrei fare Questa difesa qui È qui che faranno la breccia È qui che entreranno di brutto Quindi... Tanto va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino L'energia potrebbe crollarmi In modo assoluto, eh Questo lo metto qui Basta, ho finito? Merda Dovevo partire con il mio squadrone della morte Ma non lo sapevo Non potevo immaginare Comunque è da tanto che un gioco non mi... Non mi dava tutte queste emozioni Devo... Ma perché ho fatto una... Ma proprio un sacco E... Niente, ragazzi Qua... Siamo nella merda qua La realtà è questa Ho finito pure i modi di pietra Bene Devo vendere tutte le risorse Praticamente Ok Tranne la pietra Ovviamente Che ho venduto bene Allora L'unica cosa è Posso Batterli Con la... L'intelligenza L'intelligenza che loro assolutamente non hanno Ma... Questo qui invece? C'è... Ho finito? Io costruisco altre cose Cioè Qui non mi preoccupa Però qui mi sta cominciando a preoccupare Sinceramente Ma come... Come cazzo penso io di... Di farcela Ok via... Ok via E sia Lo scontro epico Finale Guarda... Ok Questa è la prima Se ne va Se stanno arrivando Questi qui... Non lo so Questo non piglia Una sega? Ah Già mi hanno distrutto L'affanculo Aspetta Non gli arriva più la corrente Già Non l'hanno fatta Passare già Già qui Eh... Justamente se loro mi fottono la corrente Sono intelligentissimo Questa è ormai andata Andata È importantissimo Che non mi fottano Queste cose qui Al caccia Raga Gestione delle... Delle incasinature Questa è un'incasinatura Non è un casinamento È un'incasinatura Già l'hanno atterrata la torre Come hanno fatto? Guarda come di me Di si è bitta Merda Mi hanno fottuto Cazzo Nooo Sono morto Allora Cosa è? Non posso... Non posso buttarle giù queste Cosa è? Che mi assorbe più energia Questa quanta energia? Dieci Via 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 Questa? Cinquanta La taverna Le prendo tutti quanti E via La banca Non mi serve Altra cosa che mi ruba un sacco di energia Mercato Ma soprattutto Dove sono tutti i miei uomini? Ah Eccoli Vabbè Allora Questi li tengo a baluardo qui Cioè Tanto Loro per ammazzarmi Devono fottermi questo 21 Via Siamo tornati a più 9 Di energia Quindi Riabilitati questi Giusto? Ottimo Altrimenti Eravamo Questa Eravamo Già fuori Riabilitato Ma Per evitare che risucceda Devo andare giù Miniera Quattro Questa è un'altra fattoria Fattoria Che ciuccia 30 Via Non ci sono più Operaio Praticamente Merda 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 Miniera avanzata Ma questo mi serve Vabbè Vai Ecco perché Merda Meno 92 Cosa succede Quando vanno Meno 92 Fermi Fermi Sono meno cibo Che significa? Madonna Ma come cazzo Resisto Io a tutto Sto bordello Giustizieri Sono abilitati C'è un Mi segue Che signo Vendo il cazzo Madonna Madonna Voi state qua Cazzo di Thanatos Qua Però quelli Stanno Bene o male Funzionando No Madonna Cazzo di Bordello Sono entrati Sono entrati Sono entrati Qui Entrati qua Madonna 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 No 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 Quelli stanno Spingendo C'è Ma Ma come cazzo Pretendo io Di farcela Non ne avevo Idea Che succedesse Una cosa Simile Non avevo Proprio Idea Tra le altre Cose Questa 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 Poi E' il cuore Della città Quindi Questo Doveva essere Contornato Di Centrali Più Giustizieri Non ce la Non ce la posso Si stanno Tutti a vista D'occhio Stanno Morendo E' andata Ragazzi Non vincerò Mai Tremendo 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 Do Posso dire Che è uno Dei giochi Che più Mi sta Appassionando Wow Tanta roba Dei arbiglioso Stra Straconsigliato Stra Difficile E stavo Giocando a Facile Wow Bello Addio